Grazie a tutti Vedi un po' un attimo, in quadra lì un attimo Adesso andiamo in galleria quindi sprofondiamo nel buio Stiamo sprofondando nel buio, dicevo si va a 40 e trovo veramente scandaloso questo Guarda, è stato scandaloso I lavori qua non finiscono più, non finiscono Non si può fare 250 km con una corsia sola Guarda, è veramente una cosa allucinante Stiamo andando a 40 Sì, stiamo andando a 40 Cioè è veramente una cosa vergognosa È veramente una cosa vergognosa Cioè non si può fare un viaggio così Poi guarda caso Quando ci sono i stringimenti, chi ci sta davanti ha una bicicletta P, una macchina, C, un camio Cosa? C, un camio Vabbè lasciamo prendere Andiamo avanti, tanto Qua dureranno altri 10 anni i lavori C'è proprio fantasia No, mi personalizza Fai vac Är, vabbè, vai Qu'è heap NotUA Ciao È che devo Con gotta aspettare Quattro Cosa Cosa Cre Martina Sì Quattro Grazie a tutti